ragazzi buonasera io in questo in questo canale non non mi esporrò più di tanto anche perché mi sento abbastanza a disagio davanti a una telecamera preferisco stare dietro la telecamera che davanti è una mia deformazione professionale la mia caratteristica e non ci posso fare nulla però per comprendere meglio la struttura del mio universo mentale io vi consiglio tre libri e tre film tutto sommato abbastanza fruibili abbastanza facilmente fruibili che per me sono stati sono stati fondamentali per capire chi siamo dove stiamo andando e soprattutto anche da dove arriviamo le tre domande fondamentali che ritroviamo nel finale di uno straordinario film di ridley scott dell'inizio degli anni ottanta quel film che è diventato un cult movie intitolato blade runner quindi un film di fantascienza il secondo film che vi consiglio assolutamente di vedere per avere qualche strumento in più per interpretare il reale e arancia meccanica di stanley kubrick anche questo caso un film che parla del futuro ma che in realtà ma che in realtà parla molto molto dettagliatamente anche dei tempi in cui viviamo parliamo di un film del 1971 ma evidentemente kubrick già visto giusto e un altro film secondo me fondamentale per comprendere in che situazione siamo è invece matrix film molto più recente un film che le nuove generazioni conoscono molto bene e niente io arancia meccanica ce l'ho addirittura tatuato sul braccio perché è un film che mi ha cambiato completamente la vita per quel che riguarda invece per quel che riguarda la letteratura io vi consiglio anche in questo caso tre libri il primo è american psycho di brettisto nellis che ci spiega in modo un modo assolutamente originale cosa sono stati gli anni ottanta quindi l'epopea reganiana da da cui derivano poi tutta una serie di problematiche che ci accompagnano tutt'oggi nel mondo in cui nel mondo in cui stiamo ci stiamo muovendo il secondo libro che consiglio è invece le particule elementari di michelle welbeck quindi le particelle elementari di michelle welbeck scrittore sul quale io realizzai un documentario nel 2002 l'unico documentario finora edito in italia su codecito scrittore e anche questo libro veramente un libro straordinario un libro che ci che si interroga sul sulla storia dell'uomo e soprattutto su dove sta andando l'uomo e quindi io veramente ve lo ve lo consiglio con tutte le mie con tutte le mie forze e quindi abbiamo parlato di american psycho abbiamo parlato delle particelle elementari e per concludere io vi direi di andarvi a rileggere tutta la bibliografia di david ike in modo particolare il risveglio del leone e niente vi saluto un abbraccio e alla prossima fuori